Le associazioni dei psicologhi, a parte mi fanno ridere i psicologhi, a me da anni io detesto i psicologhi, i quali sono dei... non sanno che tutta la cosa fu inventata da uno che aveva bisogno di soldi per comprarsi la cocaina. Si chiamava Sigismondo Freud e gli servivano i soldi, ora al momento, copiandolo ai cattolici, che sono sempre i primi, la confessione. Invece di fare la collettiva, incontrò e continuò che si fa il trono. Giacomo! 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info a sucka I hate him I'm on a goddamn wall I should need nothing but scarred Rai 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.